Musica Amiche ed amici sportivi in visione all'ascolto di TV Prato, canale 75 del digitale terrestre, selezione calcio dilettanti, sempre aggiornata sul canale YouTube della nostra emittente, eccoci pronti per il derby della quattordicesima giornata, tredicesima effettiva tra Signa e Lastrigiana, Stadio del Bisenzio si gioca in anticipo sabato 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, un momento di riflessione anche attraverso un comunicato letto prima dell'inizio della partita, quanto mai necessario e purtroppo mai sufficiente, 1522 il numero per le richieste di aiuto. E noi switchiamo subito sul terreno di gioco per il derby, una gara a sé, quella fra Signa e Lastrigiana, che si ripropone abbastanza spesso durante le stagioni, anche perché Signa e Lastrigiana spesso vengono abbinate anche nel torneo di Coppa Italia, diamo un'occhiata anche al centro dell'area di rigore, dove subito c'è un rilancio ad opera della formazione bianco-rossa, che fa pervenire il pallone sulla linea mediana per il disimpegno difensivo con il tocco all'indietro verso Crisanto. Vi dicevo, Signa e Lastrigiana si incrociano spesso e si sono già incrociate, i gol di Giuliani e Tempesti hanno deciso il 2-0 per il Signa nella gara di Coppa, 2-0 con cui si sono conclusi, sempre a favore del Signa, anche le due partite della stagione 22-23, con il Signa che ha in qualche modo vendicato la sconfitta ai play-off del campionato 2021-22, che aveva visto il Signa prevalere per una rete a zero con il gol di Terzani al 24esimo. Nel primo tempo si giocò quella partita, la finale play-off, al campo delle due strade. Quindi tanti gli incroci, tante le motivazioni per un derby che vede le due squadre allineate con le seguenti formazioni. Sempre l'occhio che va verso il terreno di gioco dove il capitano Coppola è messo a terra da Morelli. Morelli cerca di passare in mezzo a due avversari, riceve il pallone Pierattini con il numero 7, lo spazza via a Diegoli. Formazione del Signa non c'è ancora, Lorenzo Tempesti ancora alle prese con un malanno fisico e quindi mister Scardigli manda sul terreno di gioco Crisanto, Bianchi e Capocchiani, Diegoli, Tempestini, Becagli, Sdaigui, Dallai, Alesso, Coppola e Cellai. A disposizione del mister ci sono Fetau, Camerini, Franzoni, Archinucci, Nencini, Giuliani, Pietro, Tempesti, Mosca e Bezzini. Risponde Gambadori, Alessandro Gambadori mandando in campo per l'Alastrigiana che avrete sicuramente intuito. Sgioco alla destra dei vostri teleschermi in tenuta bianco-rossa con il pantaloncini rossi, completo nero con inserti giallo, completo sculo per il Signa con inserti giallo-blu. L'Alastrigiana schiera Marziano, Begagli, Bardazzi, Delcolle, Chiavacci, Borselli, Pierattini, Mazzanti, Palai, Morelli, Nencini. A disposizione il secondo portiere Giannini, Marchi, Guasti, Sarti, Del Pela, Caparrini, Nania, Piccione e Crini. Quindi Palai e Morelli sono gli attaccanti della L'Alastrigiana che sta ritrovando da qualche settimana anche Del Pela che aveva avuto qualche problema fisico per un guaio capitato durante il periodo estivo e che adesso sta rientrando nel gruppo per fornire la sua collaborazione a favore della propria squadra, dei propri compagni. Arbitra all'incontro il signor Cristiano Biagini della sezione di Lucca. I suoi collaboratori sono Lorenzo Nannipieri di Livorno e Emanuele Materozzi di Arezzo. Il signor Cristiano Biagini che per lui c'è un super lavoro perché già domenica, domani sarà impegnato in una gara di giovanissimi, pallone in area di rigore, uno stop del numero 11 Cellai, valutato, effettuato con la mano. Vi dicevo che domani l'arbitro sarà impegnato in una partita del campionato giovanissimi nazionale e Fiorentina Catanzaro. Ecco anche le motivazioni di questi anticipi che permettono l'impiego su più fronti anche dei direttori di gara, degli assistenti di linea. L'arbitro che ha, esauriamo anche la scheda del direttore di gara, anche diretto in eccellenza quest'anno. Un Rufina Scandicci finito 4-1 per lo Scandicci, un tutto cuoio Castelfiorentino 5-0. Queste le due gare nel campionato di eccellenza dell'arbitro di oggi. Seguiamo adesso il Signa, dopo quattro minuti e mezzo manovrare sulla sinistra con Capocchiani che lancia in profondità. Alessu e Cellai sono avanzati, si era spinto in avanti su quella fascia Sdaigui. pallone che sfila a fondo campo ed è adesso nella disponibilità del portiere Marziano che si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Abbiamo scelto per il nostro punto di osservazione per le riprese anche una posizione indubbiamente contro sole ma più confortevole per il clima. siamo sugli 11 gradi, i rigori dell'inverno cominciano a scendere, a farsi sentire. C'è anche un forte vento che spazza lo stadio e che sicuramente influenzerà anche le traiettorie del pallone. Cerca di mantenere in campo Nencini, non ci riesce. L'esterno numero 11 della Lastrigiana, che è un esterno pronto al ripiegamento, un difensore ex Casalguidi con 26 partite e due gol l'anno scorso, pronto a dar manforte come tanti compagni arrivati. L'abbiamo anche ricordato in precedenti cronache dal Casalguidi come l'allenatore Alessandro Gambadori che ha portato con sé diversi elementi. Una Lastrigiana quindi che si piazza dietro praticamente a 5 con Nencini e Beccagli che sono gli esterni con Chiavacci e Borselli insieme a Bardazzi. I tre centrali, fallo su Capocchiani sulla tre quarti, ci sarà calcio di punizione. Coppola va a recuperare il pallone nella zona già ombrosa del terreno di gioco. Lo scambia con Capocchiani. Il capitano del Signa chiama in causa Tempestini nel cerchio di centrocampo che allarga su Bianchi. Il numero due è contrastato in fallo laterale. Oggi l'esterno basso è Lapo Bianchi, difensore del 2004, che ha scelto Signa dopo essere stato anche accostato e aver avuto contatti concreti con il Certaldo. Palai, colpo di testa di Beccagli, mette la palla in fallo laterale. Signore ha perso il cartellino, dice il capitano del Signa a Chiavacci all'arbitro che lo recupera prontamente. Chiavacci ex Zenit Prato. Nencini rimette con le mani. Morelli di petto per Palai. Coppola in ripiegamento difensivo spazza via di sinistro. Il colpo di testa questa volta è di Beccagli che cerca poi il pallone del Colle, lo mette in direzione di Palai. Cerca l'anticipo Borselli, è efficace, ripiega su se stesso Beccagli, chiama in casa Chiavacci che prova il rilancio lungo verso Morelli. Tempestini, Coppola, Coppola all'indietro su Crisanto. Si è un po' placato l'impeto del vento. In questo momento vediamo come spesso accade i nostri appunti un po' distribuiti intorno con le note sul campionato, sui singoli giocatori, le note della partita per seguire nella maniera più corretta possibile lo svolgersi del gioco. Nencini, Nencini prova l'affondo, mette in mezzo un pallone, non ci sono compagni. Gambadori richiama Palai. Anche al ripiegamento, a non rimanere isolato, in avanti del Colle manovra. Nencini, sulla sua fascia Morelli, tocco corto per Pierattini che fa viaggiare Palai. La copertura di Tempestini, il recupero della palla, il rilancio. Un rimpallo ancora di Borselli, fasi di gioco per il momento a centrocampo. Le due squadre provano a verticalizzare ma non si superano. Colpo di testa di Palai, controllo di Morelli, la palla all'indietro di Coppola, recuperata da Pierattini. Prova ad andare sul fondo Pierattini, gli tocca il pallone in ripiegamento difensivo, subisce poi fallo. Becagli, e quindi ci sarà, anzi si tratta di bianchi, e quindi ci sarà calcio di punizione. No, no, era Becagli, avevo visto nemmeno Tempestini. Ecco, alla terza ci ho dato. Tempestini a terra, rialzato. Eccolo Becagli, stava lì. Tempestini, scivola, l'indicazione per il compagno. Tempestini prova a lanciare lungo, alzato il pallone di testa, toccato da Pierattini all'indietro per Del Colle, verso Chiavacci. Mazzanti, ancora per l'avanzata di Becagli. Rimonta Becagli, dopo aver perso palla, Chiavacci riconquista il pallone, ma c'è fallo su Dallai. Dallai, il numero 8, Samuele Dallai del Signa, Signa che ha conseguito 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle partite fin qui disputate. Per l'Alastigiana il ruolino le recita 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Calcio di punizione a favore dell'Alastigiana. Qualche recriminazione nei confronti dell'arbitro per questo intervento in ritardo. Il giocatore qui proprio a ridosso della panchina di Gambadori interviene con ogni probabilità anche il sanitari per portare le cure al giocatore Nencini dell'Alastigiana. Rimasto a terra. Vi dicevo del ruolino di marcia di Signa e l'Astrigiana. 12 gol fatti per il Signa, 10 subiti. Per l'Alastigiana 7 gol fatti, 16 subiti. Nella L'Astrigiana sono andati a segno con per tre volte Palai, due Morelli, una ciascuno Sarti e Mazzanti mentre il Signa il capocanoniere è Cellai con quattro reti Lorenzo Tempesti a quota tre e poi un gol ciascuno per Sdaigui, Pietro Tempesti, Alesso, Bezzini e Diegoli. Spesso decisivo Cellai i suoi inserimenti, i suoi colpi di testa in questa prima fase del campionato con Palai che invece per l'Alastigiana è andato a segno anche su palle inattive calcio di punizione e calcio di rigore calcio di punizione anche contro lo Scandicci anche se poi la formazione dei Blues ha prevalso la guardiana per tre reti ad uno è rimasto un po' contuso anche il giocatore del Signa in questa occasione pronti entrambi a riprendere il gioco non avevamo colto che anche Bianchi era rimasto nel contrasto infortunato era avvenuto a ridosso della panchina un po' ostruita dalla nostra visuale qui sulla tribuna scoperta lungo la ferrovia colpo di testa di Tempestini rilancio chiede scusa al proprio portiere che aveva chiesto anche il tocco corto non ci sono stati ancora episodi nelle aree di rigore da segnalare per gli highlight della nostra trasmissione il gioco è fatto vi ricordo dalle 21 il gioco è fatto biancazzurro sul prato la girone D della serie D e poi a seguire l'altro girone D l'eccellenza la promozione con highlight terreti da tutta la regione colpo di testa di Pierattini allontanato riprende Becagli Becagli sulla destra per Mazzanti che rincorre il pallone dribbla verso l'interno guadagna una rimessa laterale rimane in zona d'attacco alla lastrigiana con Becagli che lascia il compito dell'esecuzione a Nencini evidentemente provvisto anche di una rimessa di lunga gittata cambia fascia per andare appositamente a rimettere in gioco con le mani rincorsa parabola che arriva in area di rigore colpo di testa Morelli attenzione a Morelli di testa che aveva messo in avanti un pallone proprio per Becagli rimane in attacco rimane in attacco alla lastrigiana ma c'è la rimessa il calcio di punizione e quindi prima situazione in area che arriva al quattordicesimo con la rimessa laterale di Nencini il tocco di Morelli per Becagli ma la difesa che arriva prima segna che adesso cambia gioco Nencini è tornato nella sua naturale posizione di esterno basso a sinistra Bianchi verso Tempestini che ormai abbiamo inquadrato non lo sbagliamo più Becagli Dallai riceve ancora prova il fraseggio ordinato per linee orizzontale il signa per far uscire un po' l'avversario che va a un debole pressing alto con Morelli che gli rincorre un po' tutti Diegoli Becagli Capocchiani pallone ancora sulla sinistra per il signa compassata la manovra giallo-blu alla ricerca di un pertugio di un varco ma siamo tornati ancora sulla tre quarti con Crisanto desiste dall'idea di battere lungo si riprova con il fraseggio Sdaegui Capocchiani ancora Sdaegui prolungato possesso palla del signa però asfittico non trova sbocchi eccolo Cellae in area di rigore è andato a spizzare questa palla di testa puntuale su di lui però la copertura di Becagli palla in fallo laterale sempre coloriti e canterini i boys del signa che in un coro prima della partita hanno espresso il loro dissenso per gli anticipi al sabato ma come avete come certamente sapete come già avete sentito dal fatto che l'arbitro per questa partita sarà impegnato anche domattina sono un po' necessità di cui bisogna fare virtù per agevolare il compito del corpo arbitrale che numericamente non è sufficiente a coprire tutte le gare che tra calcio dilettanti e giovanili e regionali si disputano ogni fine settimana capocchiani lo stop di Alesso che finisce a terra il pressing di Dallai che tocca per ultimo la rimessa sarà a beneficio della lastrigiana la lastrigiana molto accorta una posizione di classifica in cui mister Gambadori sa che deve puntare a fare un passettino piccolo alla volta per mantenersi a galla per uscire dalla situazione di difficoltà anche sul piano caratteriale mentale che qualche sconfitta un po' pesante sta condizionando mentre per il Siga un po' di alti e bassi qualche bel colpo qualche giocata spettacolare qualche vittoria di prestigio più che bassi diciamo momenti in cui la squadra di mister Scardigli non ha colto l'attimo avrebbe potuto ottenere di più da qualche partita ma è sicuramente un cammino fin qui questi 18 punti che ha il Siga più che soddisfacente nella bagarre della zona playoff in un girone che sembra destinato a laureare con largo anticipo il Siena come squadra promossa Coppola in mezzo a due avversari Prova a lanciare in avanti su Pierattini la chiusura di Becagli è efficace Nencil Nencil rivette con le mani per Morelli il tocco corto di Morelli verso Palai colpo di testa di Pierattini dov'è il pallone si chiedono i giocatori è finito in fallo laterale Tempestini tocca per Crisanto ritmo blando in questa prima parte della partita abbiamo ancora la lastrigiana che cerca di difendere questo pallone lo mette in fallo laterale Chiavacci pallone ribattuto ed è il primo calcio d'angolo su questa ribattuta di Mazzanti c'è il primo calcio d'angolo a favore del Signa arriva al ventesimo lo va a battere Coppola con i centrali difensivi come spesso capita che sono già avanzati Sdaigui è in area piccola a disturbare anche l'operato del portiere Marziano Coppola un cenno ai propri compagni spiove il pallone sul primo palo Becagli la tocca e mette il pallone fuori corner di Coppola e la deviazione sul primo palo di Becagli fuori una azione un po' simile al al goal a uno dei goal del Signa se ricordiamo bene nel derby che si giocò nella stagione scorsa al al Puskas con una ripresa abbastanza avventurosa di TV Prato fatta da dietro la porta Palai a sua volta Palai trova la respinta di Capocchiani e guadagna un angolo si pareggia il conto dei corner alla battuta del calcio d'angolo c'è Dalcolle tutto in fila al centro dell'area di rigore si marca a uomo Dalcolle spiovente per Chiavacci anticipato da Tempestini riprende la palla Pierattini la rovescia di nuovo sul fronte opposto la spizza di testa Bardazzi Morelli ancora il pallone preda dei difensori del Signa mentre una folata di vento spazza tutto via qui intorno a noi raccomandazioni raccomandazioni anche dal portiere Marziano per il suo compagno Bardazzi rimessa con le mani che sfila a fondo campo e quindi Crisanto in tutta calma può rimettere in gioco siamo arrivati amiche ed amici di TV Prato al minuto 23 di questo primo tempo che fin qui non ha offerto emozioni abbiamo annotato una remessa laterale di Nencini spizzata in area toccata in area da Morelli per l'inserimento di Becagli ma l'anticipo della difesa mentre per il Signa un angolo di Coppola toccato da Becagli grandi raccomandazioni dalle due panchine c'è grande attenzione tattica stiamo stretti a corcia chiede Stefano Scardigli ai suoi giocatori colpo di testa mancato da Palai Morelli difende dall'attacco di Bianchi va a terra subisce fallo calcio di punizione a favore della Lastrigiana del Colle è sul pallone lo calcia verso Palai un'occhiata al collaboratore di linea che non sbandiera quindi posizione regolare di Palai che prova ad andare sul fondo guadagna un calcio d'angolo il secondo per la Lastrigiana dal Colle insegueva a prendere il pallone anche per battere dalla sinistra in area di rigore i saltatori anche l'imponenza di Borselli l'imponenza fisica infatti è oggetto di osservazione speciale attenzione battuto direttamente verso la porta da Dal Colle si salva con prontezza attenzione Mazzanti fallo a munizione di Mazzanti vi dicevo sull'angolo di Dal Colle angolo dal Colle respinta di pugno del portiere Crisanta e poi c'è il fallo e ammunizione per Mazzanti al 25esimo primo ammunito della partita Coppola Tempestini non ha ancora provato né trovato il cambio di ritmo il signa mantiene il possesso sulla propria tre quarti la lastrigiana abbottonata a copertura di Marziano con gli esterni bassi tre centrali dal Colle sulla mediana Del Colle stiamo chiamando una volta in un modo una volta in un altro il corretto nome il corretto cognome è Federico Del Colle arriva dal Fucecchio 27 presenze due gol nella scorsa stagione per lui era poi stato anche alla Zenit Prato questo centrocampista di qualità e esperienza in carriera per lui ci sono 230 presenze circa fra Serie C 2 e Serie D con tante maglie in Toscana Poggi Bonzi Scandicci Pianese e in ultimo anche L'Aglianese raccomandazioni del mister Gambadori a tenere le posizioni per i suoi giocatori Mazzanti attenzione perché Mazzanti non può trattenere l'avversario perché rischierebbe grosso prova a dare in profondità per Alesso in mezzo a due avversari Marziano non si fida va al rilancio di prima intenzione di sinistro riesce comunque a mettere in movimento Palai la spalla per Pierattini Pierattini in profondità per Morelli chiude bene lo spazio Tempestini che poi ha qualche problema nel rilancio Cellai cerca di difendere Palla Cellai si prosegue Bianchi Bianchi fermato da Nencini ancora si prosegue perché la palla è nella disponibilità del signa e quindi l'arbitro applica la norma del vantaggio poi Diegoli e adesso c'è calcio di punizione per la lastrigiana una gestione un po' particolare dell'arbitro c'erano un po' di falli a favore del signa che però era in possesso palla poi il momento in cui c'è stato il signa la lastrigiana che è entrata nel possesso c'è stato questo fallo del colle lo batte sulla destra per l'avanzata di Beccagli Beccagli su Chiavacci l'esterno 2006 Beccagli che si è già distinto ed è stato anche individuato dal nostro precedente cronaca come migliore in campo nella partita con il Firenze Ovest adesso c'è Alesso Alesso prova a scaricare di sinistro strozza un po' il tiro comunque bella azione Alesso che riceve a sulla destra converge batte di sinistro però debole parata del portiere molto tranquilla tutto questo al ventottesimo a riempire un taccuino fin qui abbastanza in tonso Diegoli commette fallo sulla tre quarti comincia a farsi sentire anche qualche spigolosità da derby anche se comunque subito batti il 5 di Diegoli con il giocatore avversario Pirattini del Colle si assume la regia bassa il compito di mettere in mezzo questo pallone Gambadori si è alzato dalla panchina indirizzando praticamente piazzando i propri giocatori in area spiovente Crisanto la fa sua pronti anche sulla ripartenza avversaria adesso perché la la strigiana si era spinta in avanti e c'è Sdaigui che si spinge prova a infilarsi in mezzo a tre avversari si autolancia ma Malziano è vigile qualche metro in avanti a chiudere nessuna parata fin qui dei portieri soltanto uscite alte questa uscita alta che abbiamo visto di Crisanto rinvio di sinistro di Marziano pallone a campanile fermato un po' anche dalle folate di vento Morelli Morelli che prova una battuta un po' pretenziosa di sinistro non impensierisce certo Crisanto che adesso va a recuperare sul sintetico di calcetto di calciacinque che è stato realizzato dietro la porta che lui difende in questo primo tempo grandi prodigarsi di indicazioni Diegoli un pallone colpito male nel tentativo di cambiare gioco regala la rimessa laterale Samuele Giuliano Diegoli classe 95 centrocampista con esperienze alla rondinella la dasce Galluzzo e con 30 presenze e un gol nella stagione 2022-23 Dallai consegna la palla per la rimessa ed è ancora Nencini questo calcio d'angolo con le mani praticamente le rimesse a lunga gittata di Nencini il colpo di testa Chiavacci Pierattini rete rete della lastrigiana Chiavacci Pierattini sulla rimessa lunga di Nencini e si sblocca la partita con la rete di Pierattini al minuto 31 lo avevamo detto che era la circostanza praticamente un pallone lungo una situazione pericolosa quasi come da calcio d'angolo Nencini con le mani la colpo di testa di Chiavacci in area di rigore la palla è pervenuta Pierattini Pierattini nell'area piccola sul pressing dell'avversario l'ha girata di destro e ha perforato Crisanto e quindi si sblocca la situazione al trentunesimo con la lastrigiana che si porta in vantaggio col gol del suo numero 7 Simone Pierattini cresciuto nella società che nel 2017 2018 ha avuto proprio una parentesi proprio qui a signa con poi tornato in bianco rosso tre presenze per lui nel 2021-22 19 presenze un gol l'anno scorso e questo è un gol importante il quinto marcatore il quinto giocatore che iscrive il proprio nome sul taccuino dei marcatori lo ha fatto nel derby lo ha fatto concludendo di destro sotto misura una rimessa laterale di Nencini prolungata da Chiavacci nel traffico dell'area di rigore è uscita vincente dalla lastrigiana con questa deviazione e adesso vediamo che fisionomia assume la partita segna che deve rinunciare lo abbiamo ricordato in avvio in fase di lettura delle formazioni a Lorenzo Tempesti ed è un'assenza prolungata quella del suo bomber più rappresentativo che un po' sta sicuramente condizionando il potenziale offensivo in città Stefano Scardigli dalla panchina sta facendo scaldare anche un giocatore vicino a lui Tempestini Pierattini su bianchi ancora un contrasto fra i due calcio di punizione accorre l'arbitro Coppola Tempestini tra l'altro ricostruiamo anche risalendo a ritroso che il goal della la strigiana è scatolito proprio anche da quel lancio impreciso di Diegoli che ha di fatto regalato il fallo laterale fallo laterale che Mencini ha tramutato in un assist nel cuore dell'area di vigore il tocco di Chiavacci il tiro di Pierattini che ha superato Crisanto la strigiana in vantaggio Capocchiani Becagli e Tempestini tutta nella metà campo avversaria il Signa tutta dietro la linea della palla la strigiana Morelli va in pressing su Crisanto un po' di affanno glielo mette perché lo costringe a un rilancio forse un po' affrettato di conseguenza impreciso c'era poi anche posizione di fuorigioco c'è cambio evidentemente c'è qualche problema fisico nel Signa ed entra Mencini sul terreno di gioco al posto di Bianchi Bianchi che avevamo visto avere risentito del contrasto con Pierattini quindi al minuto 35 entra il numero 16 del Signa ed esce Bianchi entrato al suo posto Nencini adesso abbiamo due Nencini sul terreno di gioco quello Giovanni nell'Astrigiana quello che batte i falli per intenderci Samuele classe 2001 ex Prato Doccia Scandicci e a Signa dal 2019 Samuele Nencini il giocatore del Signa 36 minuti di gioco si è sbloccata la partita l'Astrigiana è in vantaggio per 1 a 0 sul campo del Signa che fa questo fraseggio orizzontale alla ricerca di spazi offensivi perché l'Astrigiana ha tirato su un muro a centro campo Morelli e Palai partecipano alla fase difensiva la difesa è a 5 riceve il nuovo entrato Samuele Nencini pallone dato qui sulla destra per Alesso che non ha avuto palloni giocabili allora viene a cercarseli sulla tre quarti il cambio di fronte su Coppola Coppola avanza pallo al piede fronteggiato da Mazzanti l'unico ammonito della partita verso Becagli Becagli diamo un'occhiata anche con la coda dell'occhio ai movimenti a ridosso dell'area di rigore difende alta la L'Astrigiana tutti al limite dell'area Nencini prova la spazza via Bardazzi la aggancia Becagli la porge indietro a Crisanto Crisanto su Tempestini il cambio di gioco su Coppola è impreciso la palla finisce in falla laterale la rimessa con le mani sarà per la L'Astrigiana la Strigiana che ha già vinto fuori casa ha vinto fuori casa la prima partita di questo campionato sul terreno del Valentino Mazzola per una rete a zero col gol di Sarti adesso si trova in vantaggio allo stadio Visenzio di Signa il cross di Dallai è ribattuto da Becagli e quindi anche il Signa batte il secondo calcio d'angolo della sua partita sul primo è intervenuto Becagli sul cross di Coppola vediamo adesso se Coppola ripeterà la battuta sul primo palo così è infatti Mazzanti si contende di nuovo la palla con Coppola gliela tocca poi c'è Sdaigui Capocchiani Capocchiani che mette in centro il colpo di testa di Borselli lei ha avuto un attimo di esitazione di intervenire di metterci la zampata è stato Borselli invece a liberare l'area concedendo però al Signa il terzo calcio d'angolo di questa partita grande groviglio marcatore a uomo ci si abbraccia amorevolmente mischione non c'è niente dall'ai che calcia Coppola che la spazza cioè che la spazza che la indirizza con violenza ma senza precisione comunque al 39 sugli sviluppi dell'angolo il tiro di Coppola molto alto qualche timida protesta in area di rigore per il tocco di mano la stregiana che guadagnucchia prende fiato anche se non è che ancora sia schiacciata nella propria metà campo riesce a rallentare molto con un posizionamento accorto sul piano tattico la spinta offensiva del Signa Palai che incrocia con Capocchiani lo travolge in maniera involontaria ma netta e quindi punizione per il Signa con Tempestini che riceve si propone sulla sinistra e viene servito Samuele Nencini Coppola ancora all'indietro su Tempestini Prova ad avanzare non c'è fallo la palla rimane in campo Crisanto è uscito lui a recuperarla la ricaccia in avanti la colpisce di testa Chiavacci poi la segue Cellai Nencini per la lastrigiana un po' di confusione in questa fase sul rilancio di Giovanni Nencini Coppola che viene in posizione di mediana serve sulla sinistra lo scambio fra Sdaegui e Capocchiani Sdaegui va sulla sinistra rientra sul destro tre avversari su di lui va sul fondo mette in mezzo interessante questo pallone Alesso qualche protesta in difesa per una possibile spinta Alesso cross di sinistro ribattuto allontana Borselli Pierattini Nencini non dà precisione a questo suo rilancio Stefano Scardigli sicuramente apporterà apporterà molto probabilmente dei correttivi durante l'intervallo anche dal punto di vista tattico una sostituzione forzata quella di di Nencini che ha rilevato bianchi Sdaegui Sdaegui c'è anche Pietro Tempesti in panchina come possibile soluzione la vivacità di Bezzini il giovane molto promettente del Signa adesso fuori gioco fuori gioco di Dall'Ai 43 minuti nel corso del primo tempo decide fin qui il gol al 31esimo di Pierattini un'indicazione dall'assistente per i minuti di recupero che adesso verranno mostrati non ci sono state grosse interruzioni soltanto quella per l'infortunio l'incidente lo scontro di gioco un minuto di recupero verrà concesso mazzanti per Morelli Morelli sulla copertura di Becagli va in pressing ma il difensore del Signa riesce a proteggere la palla l'uscita a fondo campo la porta avanti Diegoli Capocchiani su Coppola molto mobile Coppola su Dall'Ai Mazzanti mette in fallo laterale Capocchiani la indirizza su Sdaigui la colpisce di testa Becagli la difende Palai che va a terra ma si prosegue attenzione ad Alesso Alesso il tiro di Alesso la copertura di Borselli decisiva qualche recriminazione della Lastrigiana Alesso è stato chiuso da numero 6 Borselli e quindi si va in area con il corner la cui sviluppi si sono già esauriti con questa rimessa laterale due minuti sono stati concessi di recupero quindi si giocherà fino al 47esimo in questo primo tempo piuttosto avaro di emozioni un paio di occasioni nelle reciproche aree di rigore praticamente il Signa si è affacciato soltanto su palla inattiva creando una mischia e una deviazione di Becagli sul primo palo su calcio d'angolo finita fuori la Lastrigiana ha coperto bene tutti gli spazi e ha colto a tratto massimo profitto da una delle sue risorse le rimesse a lunga gittata di Nencini su una di queste al 31esimo ha colpito Pierattini nella mischia dell'area di rigore suo il tocco vincente ravvicinato che ha trafitto Crisanto e che fissa l'1-0 nel quale si sta concludendo questo primo tempo Edoardo Novelli in voce Francesco Santillo quest'oggi per le riprese video come sempre in regia del Dream Team di TV Prato il capitano è Paolo Innocenti mentre il capitano della redazione è Massimiliano Masi con Andrea Labbate e Diletta Bitorzo i protagonisti del Il Gioco è Fatto l'abbiamo ricordato dalle 21 il gioco è fatto Biancazzurro ogni lunedì a seguire gli highlight anche dell'eccellenza e della promozione Sali Tempestini in area il colpo di testa di Chiavaccia ad allontanare in marcatura su Cellai la palla recuperata da Mazzanti data verso Becagli ordinato Becagli ha avuto meno occasioni in questo primo tempo di proporsi anche in fase offensiva ma è molto attento è sicuramente una quota di avvenire che ha davanti anche se verranno confermate le quote anche numerose diverse stagioni per poter proseguire ma comunque sicuramente una risorsa per la Lastrigiana finisce qui il primo tempo la Lastrigiana va a riposo in vantaggio per una rete a zero decide il gol di Pierattini al trentunesimo ci vorrà un signa diverso nella ripresa per raddrizzare la partita rimanete con noi Digitale Terrestre canale 75 TV Prato ci risentiamo per il secondo tempo squadre schierate al centro del campo per il secondo tempo del derby del Bisenzio signa l'Astrigiana valevole per la giornata 14 del campionato di eccellenza il primo tempo si è concluso con la Lastrigiana in vantaggio per una rete a zero segnata al trentunesimo di gioco da Pierattini sul tabellino poche altre occasioni da gol una ammunizione per Mazzanti una sostituzione che ha visto scendere in campo Nencini al posto di Bianchi nel signa una sostituzione forzata una signa che non ha trovato spazi è privo di Lorenzo Tempesti ha faticato a trovare spazi dietro nella retroguardia della Lastrigiana chiusa da una difesa a 5 con un grande filtro a centro campo e anche delle ponzecchiate offensive da cui è scaturito il gol è un passaggio sbagliato ha originato una rimessa laterale a favore della Lastrigiana la rimessa è stata eseguita da Nencini con una gittata lunga Nencini della Lastrigiana Giovanni spizzata in area da Chiavacci colpita di testa in area da Chiavacci raccolta da Pierattini sotto misura girata di destro alle spalle di Crisanto Morelli e Palai sono i terminali offensivi della Lastrigiana che comunque spesso accorciano a protezione della linea di centro campo adesso buona parte del terreno di gioco è Ombroso sta calando il sole da questa postazione che come vi dicevo nel primo tempo abbiamo preferito per le riprese adesso Dallai prova a lanciarsi non trova però quella deviazione che gli avrebbe permesso di rimanere in zona d'attacco con un corner ed è così Marziano che con tutta calma si appresta a effettuare la rimessa in gioco colpo di testa di Giulio Mazzanti l'altro di Diegoli in anticipo su Morelli pallone verso Palai Palai che si contende il pallone con Tempestini Morelli Morelli con non c'è niente uno scivolone di Morelli un spintina un po' pericolosa dire il vero però assolutamente veniale troppa distanza fra voi dice fra il centrocampo e la difesa mister Gambadori chiamando a fare i due movimenti la difesa difende un po' più alta i centrocampisti ad arretrare sulla mediana l'inserimento offensivo di Alesso sul pallone di Coppola Alesso va sulla linea laterale scambia con Dallai il colpo di testa è di Diegoli Coppola Coppola Chiavacci non frena l'irruenza e subisce così fallo il capitano del Siena e del Signa aver visto Signa Siena ultimamente ha lasciato qualche traccia nell'inconscio Angelo Coppola classe 1986 dal 2010 al Signa un anno al Galluzzo poi è tornato nella stagione 2014-2015 con la stagione del centenario con la vittoria del campionato non ha più lasciato il Signa occhio Cristian che è palai dice Mr. Gambadori Coppola quattro giocatori in barriera c'è anche Diegoli Coppola che parte non scende questo pallone occasione che sfuma per il Signa la prima della ripresa che giunge al quarto minuto la rimessa di sinistro di Marziano Beccagli che si inserisce Palai Morelli ancora verso Beccagli Beccagli riceve ed è in posizione di fuorigioco il collaboratore di linea ha atteso che Beccagli entrasse nella disponibilità del pallone poi ha segnalato la posizione irregolare Crisanto pallone troppo largo questo suggerimento impreciso sta facendo scaldare giocatori dalla panchina mister Stefano Scardigli per il momento è rientrato con gli stessi undici Morelli va a terra sulla spinta di Capocchiani non batte ciglio l'arbitro si prosegue Beccagli Crisanto sul pressing di Morelli Tempestini Coppola in pressing Nencini sull'altro Nencini si aggrovigliano i due poi arriva Morelli in scivolata mette la palla in fallo laterale l'arbitro interviene e concede calcio di punizione richiama l'attenzione dell'arbitro Cristiano Biagini lo chiama per nome l'assistente Lorenzo Nanni Pieri di Livorno e c'è un doppio cambio a favore nella squadra cioè del Signa entrano il numero 14 per Capocchiani sul terreno di gioco Franzoni e il numero 18 Pietro Tempesti per Sdaigui quindi le sostituzioni al sesto minuto del secondo tempo Pietro Tempesti per Sdaigui Franzoni per Capocchiani e vediamo adesso come si ridisegna la squadra del Signa se c'è una semplice cambio di uomini o anche una variazione tattica Coppola all'indietro per Tempestini Crisanto al rilancio verso Alesso Chiavacci va in copertura Alesso lotta attenzione ad Alesso in area di rigore arriva e la spazza via Borselli Coppola su Becagli Tempestini Franzoni e da questo prima colpo d'occhio che il Signa è a tre dietro quindi forse 3-4-3 con Alesso Cellai e Pietro Tempesti sulla linea offensiva avanza Dallai Coppola Becagli Coppola la rimette in avanti va a terra il contrasto fra Cellai e Chiavacci Marziano mette la palla in fallo laterale è rimasto a terra il giocatore della Lastrigiana e si deve intervenire in suo soccorso il capitano della Lastrigiana abbiamo ricordato i suoi trascorsi alla Zenit Prato per Alessio Chiavacci abile nel destreggiarsi sia sulla fascia come laterale destro che come centrale impiegato alla Zenit come in questo ruolo quando si era infortunato nella scorsa stagione il capitano Bagni ottime prestazioni 27 presenze per lui l'anno scorso con la maglia blu amaranto della squadra di Simone Sette Soldi anche qualche gol in inserimenti su palle inattive Marziano ha rimesso lungo ci sarà rimessa per il signa con le mani che naturalmente poi la restituirà alla Lastrigiana Nencini non ha seguito le indicazioni di Coppola ha rimesso la palla a fondo campo concedendo a Marziano qualche secondo in più per andarla a recuperare e rimettere in gioco rilancio di Marziano colpo di testa di Mazzanti palla difesa da Morelli dall'attacco di Diegoli sulla sinistra Nencini Franzoni sulla destra colpo di testa di Palai rilancio verso Alesso in mezzo a due avversari anzi si trattava di Cellai Dallai Coppola non riesce lo suo stop a seguire Becagli chiuso Becagli Dallai rinviene il 2006 della Lastrigiana Dallai ha servito poi si prosegue Alesso vistosa la trattenuta ma Alesso è sempre in possesso palla colpisce l'arbitro che adesso rimette in gioco premessa della parte dell'arbitro con Diegoli che prova a servire in avanti Chiavacce di testa toccato il pallone esce lateralmente e quindi rimessa con le mani a favore della Lastrigiana è calato il sole temperatura più rigida anche qui sugli spalti però anche immagini più uniformi non risentendo degli sbalzi fra zone di luce e zone di ombra si combatte tra colpi di testa su un fronte e sull'altro ne esce la Lastrigiana con una rimessa a proprio favore Chiavacci il colpo di testa di Coppola lo scontro fra Chiavacci e Pietro Tempesti Chiavacci bima il gesto col corpo dell'avversario che forse è saltato col gomito largo comunque cance di punizione del Colle per la Lastrigiana che batte e la Lastrigiana avanza con tutti i suoi effettivi nell'area avversaria del Colle per Mazzanti la finta a favorire l'inserimento centrale di Palai però la difesa del Signa è accorta adesso però deve con Cellai difendere un pallone in zona scaborosa Becagli lo rilancia Borselli lo riconquista lo ricaccia in avanti ancora il colpo di testa di Becagli quest'atto a accelerare a accelerare i tempi ci vuole un cambio di ritmo per raddrizzare questa partita se vuole raddrizzare questa partita il pallone di Dallai alzato pericolosamente Borselli di testa calcio d'angolo a favore del Signa scivola Cellai nel tentativo no era un compagno comunque nel tentativo di recuperare il pallone uscito a bordo campo calcio d'angolo a favore del Signa dovrebbe essere il sesto della partita Coppola Palai Pirattini Palai Morelli a qualche metro per avanzare non ci sono compagni un po' privo di senso ci permettiamo di dire questo tocco di Morelli che se voleva fare un pallonetto a Crisanto era sicuramente pretenzioso e se voleva servire compagni non ce n'erano era palese colpo di testa ancora sull'uscita di Marziano non ha pazienza Borselli non aspetta il proprio portiere preferisce spazzare via adesso Signa che comunque accelera il ritmo il pressing Pietro Tempesti Dallai Becagli si riempie l'area dice il difensore attenzione a questo errore Morelli ci riprova evidentemente ce l'ha per vizio si arrabbia anche Gambadori lo capiamo perché la gestione del pallone avrebbe potuto permettere ai giocatori della strigiana di salire di accompagnare l'azione Morelli ha avuto fretta anche in questa circostanza Pietro Tempesti rimbalza la palla su sorprendendo un po' il portiere Marziano Tempesti riconquista la lontana di testa Bardazzi quindi noi andiamo ad annotare di fatto quello che è il primo tentativo a rete al quindicesimo arriva un tiro di controbalzo di Pietro Tempesti Marziano ci è andato quasi di bagger rimane in zona d'attacco il Signa sostenuto anche dai suoi sostenitori dai boys Vessilli sempre sventolanti incessante incitamento Tempesti attenzione in area va a terra è andato più a cercare l'anticipo che a subire il fallo assolutamente d'accordo qui con la lettura dell'arbitro Crisanto Becagli cambio di gioco Coppola pressing del Signa con Pietro Tempesti tre avversari su di lui elegante lo scambio con Nencini Tempesti va sul fondo mette al centro Chiavacci di testa allontana Becagli recupera il pallone l'altro Becagli sono altri due non lo avevamo sottolineato comunque chiaro il numero sei il numero due dell'astrigiana Francesco Becagli dalle giovanili agli allievi elite centrocampista ex Prato e Pistoiese un salto diretto per lui in prima squadra mentre Stefano Becagli classe 99 Morelli lascia il campo ed entra Sarti nella l'astrigiana non sappiamo quanto questa sia una scelta tattica o quanto Mr. Gambladori sia stato un po' indispettito anche dalla gestione di un paio di palloni di Morelli sicuramente precipitosa entra Sarti nella l'astrigiana abbiamo ricordato Christian Sarti classe 2004 alla lastra dal 2021 sette gol sette presenze e un gol nel 2022-23 e già il gol vincente nella trasferta con Mazzola Val d'Arbia c'è anche un altro cambio già pronto per Gambladori che avvia all'ingresso sul terreno di gioco anche Piccione Tempesti che almeno Pietro Tempesti ha portato dinamismo con il suo ingresso Dallai Becagli prova la percussione palla al piede viene contrastato da Chiavacci che gli mette la palla in calcio d'angolo vediamo se Mister Gambladori sceglie di temporeggiare o di mandare subito sul terreno di gioco no perché si è già battuto l'angolo Coppola ha sporcato il suo cross prova il colpo di testa c'è un contrasto di Delcolle in area di rigore su Tempestini che facendo alla panchina no si prosegue qualche situazione nelle due aree di rigore qualche missia che si accende va in pressing ma difende palla bene Franzoni la tocca su Stefano Becagli Dallai si allarga sulla destra Franzoni va a ricevere avanza Dallai si è andato a spostarsi in posizione dalla destra il pallone per Diegoli Diegoli in area prova ad andare prova ad andare a colpire Cellai situazione da rivedere sul traversone di Diegoli è andato all'impatto con il pallone Cellai contrastato dal difensore che poteva essere c'è sembrato Borselli l'arbitro sicuramente anche coperto da un nugolo di giocatori che affollavano l'area di rigore non ha ritenuto di dover intervenire quindi tutto questo accade quando i minuti sono 20 nel corso del secondo tempo Edoardo Novelli in voce Francesco Santillo per le riprese video la regia come sempre capitanata dal nostro Paolo Innocenti la frequenza quella giusta il digitale terrestre il canale 75 di TV Prato la selezione del calcio di lettanti con tutte le cronache integrali anche sul canale YouTube TV Prato ed entra sul terreno di gioco Piccione in sostituzione di Francesco Becagli Rumoreggia il pubblico nella assiepato sulla tribuna coperta opposta alla nostra postazione siamo in diversi anche di qua sia perché ci sono i sostenitori della lastrigiana sia perché nel primo tempo eravamo al sole Tempestini ecco puntuali che arrivano le riprese l'inquadratura del nostro Francesco Santillo anche sugli spalti qui vicini alla nostra postazione Crisanto ricordiamo 1 a 0 per la lastrigiana decide il gol al 31esimo di Pierattini non ci vedo ragazzi c'è il sole ha detto a centrocampo del Colle linea 5 ripristinata della lastrigiana con Pierattini che con l'uscita di Becagli arretra lui esterno basso difensivo cerca di accelerare il ritmo il signa che non ha trovato la lucidità la giocata giusta si sgola anche Gambadori a dare le indicazioni per l'applicazione difensiva ai suoi giocatori il colpo di testa di Pierattini ci sembrava allora c'è una ecco c'è una diversità di vedute fra l'arbitro e l'assistente si fida poi Cristiano Biagini di quanto gli segnala no ho visto bene io non si fida per Nanni Piere di Livorno era rimessa per il signa l'arbitro lo assegna alla lastrigiana dice ho visto io del Colle in avanti per Sarti va al pressing su Tempestini tocco su Crisanto riceve Diegoli dal compagno Franzoni Dallai Becagli il colpo di testa su Pietro Tempesti di Chiavacci che è uscito dalla posizione centrale Pierattini e Chiavacci in raddoppio Coppola Coppola che rientra sul destro poi prova ad andare sul fondo gioco di gambe non lo molla Pierattini Coppola Marziano la fa sua il portiere della lastrigiana Filippo Marziano classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina minutato anche nel Montevarchi 5 presenze in D nel 2020-21 poi Zenit Prato in alternanza con Niccolò Cecconi l'anno scorso al Casal Guidi insieme a Mister Gambadori quest'anno chance per lui come titolare questa è la scelta che ha operato la lastrigiana vorrebbe entrare in campo Gambadori guarda quanto spazio diamo ci vogliono le posizioni più attenzione richiama Gambadori ogni qualvolta la lastrigiana allunga un po' le linee vuole Gambadori una squadra corta una squadra compatta che non lascia spazio si muove a cerniera del colle anche allenatore in campo Sarti va a combattere su Nencini la spazza via poi Tempestini la rilancia in avanti Alesso cerca di infilarsi tutto regolare sono finiti a terra Marziano controlla e rilancia lungo di sinistro il colpo di testa di Becagli la palla messa in fallo laterale Becagli Tempestini gli esterni sono subentrati Franzoni e Nencini gli esterni del Signa Dallai Chiavacci la spazza via Sarti alla caccia del pallone sul disimpegno di Tempestini che poi gli ostruisce la traiettoria di corsa Diegoli Tempestini Franzoni Tempestini Dallai Pierattini Sarti Pierattini sul filo del fallo laterale attenzione perché ha un crampo forse e c'è già pronto comunque un cambio c'è Crini no non è Crini perché sì è lui siamo fidati della fisionomia della conoscenza con Cristofo Iago Crini classe 2001 lo abbiamo visto anche giocare nella formazione allievi ormai 6-7 anni fa che sostituisce al centro del campo Giulio Mazzanti quindi distribuisce e amministra bene anche le risorse fisiche il mister Gambadori e fa entrare Crini un mediano forze fresche grande anche forza atletica toglie Giulio Mazzanti che oltretutto è ammonito l'unico ammonito della partita quindi a scanso di equivoci per una di rischi per una fase della partita anche più agonistica e nervosa Crini verso Sarti una scelta di Gambadori Coppola Coppola su Franzoni Crini forse con un braccio intercetta l'arbitro dice di aver visto ma che il braccio era aderente al corpo rimessa con le mani a favore della lastriciana con Nencini Palai Diegoli allontanato dall'Ai Marziano ha provato un rilancio immediato ha colpito ha svirgolato un po' il pallone Becagli Andrea Abbassati raccomanda dalla panchina mister Gammadori che si arrabbia per la gestione attenzione a Sarti attenzione rischio rischio Becagli trattiene Sarti che gli era sgusciato via fallo e secondo ammonito per della partita il numero 6 del Signa Becagli Stefano Becagli Junioris Nazionali a Ponsacco scuola Empoli aglianese per lui al Signa con 16 presenze e un gol l'anno scorso del Colle del Colle in area attenzione a questa situazione la palla termina in rete ha raddoppiato la lastrigiana con il tocco di Borselli nell'area piccola inviperiti i giocatori del Signa nei confronti dell'arbitro per questa valutazione probabilmente sul contrasto c'è una ammunizione sventolata a Crisanto una forse una gamba tesa un tocco di mano qualcosa è successo in area di rigore comunque punizione di del Colle e inserimento offensivo di Borselli che regala alla scoccare della mezz'ora il 2 a 0 alla lastrigiana sicuramente ci sarà bisogno di una zoomata di prima categoria da parte della nostra regia sul rallente e le riprese del nostro Francesco Santillo per capire bene poi cercheremo anche magari nella negli spogliatoi di chiarire l'accaduto attenzione al pallone manovrato da Alesso mettiti a posto dice Gambadori sicuramente rinfrancato da questo raddoppio si anche Tempestini si intrattiene con l'assistente di linea sul secondo palo della battuta del calcio di punizione dall'opera di Delcolle il groviglio di uomini il tocco sotto misura di Borselli che ha regalato il 2 a 0 alla lastrigiana tante proteste ad opera del signa nei confronti dell'arbitro Cristiano Biagini di Lucca colpo di testa di Dallai Pietro Tempesti Pierattini Coppola con le mani Chiavacci e Cellai si contendono il pallone Borselli lo alza Campanile Tempestini lo contende Assarti Franzoni Crini per Sarti sorretto da Palai sul fronte opposto Sarti prova a servirlo non è male l'idea troppo profonda però ripartenza all'astrigiana troppo lungo però cambio ancora nel signa che a questo punto non ha più niente da difendere e manda sul terreno di gioco anche Giuliani in sostituzione del capitano Coppola minuto 33 12 minuti più recupero alla fine di questo derby che la l'astrigiana sta vincendo 2 a 0 sul campo del signa Pierattini e Borselli gli autori dei gol dall'Ai per Pietro Tempesti la chiusura di Chiavacci che gli taglia la strada in maniera regolare protegge il pallone che esce sul fondo e consente a Marziano di andare alla rimessa anche Piccione parla con il compagno Palai Andrea Piccione classe 2001 settore giovanile del Livorno e poi 30 presenze in Serie D per lui tra Picerno Messina e Biancavilla prima del rientro in Toscana Crini cambio di gioco proprio di Piccione per l'avanzata di Nencini entra in campo Gambadori ad accompagnare attenzione il tocco sottomisura di Sarti non era fuori gioco era occasione nitida per l'alastrigiana Sarti ha mandato fuori sul cross di Nencini al minuto 34 Tempesti attenzione a Tempesti Alesso colpo di testa di Borselli spinta di Nencini su Pierattini ottima partita di Pierattini a tutta fascia esterno esterno alto basso diciamo e a cui va il merito va scritto il merito di aver sbloccato la partita al 31esimo del primo tempo signa 0 l'astrigiana 2 gara più spigolosa più nervosa con qualche episodio controverso qui nel corso del secondo tempo fallo di mano operato da Diegoli operato sì esatto da Diegoli dietro dietro la dice l'arbitro dove è Pierattini che poi Delcolle la rimette un po' avanti Piera dove vai attaccati al 18 gli dice Marziano cioè di seguire Pietro Tempesti Delcolle lungo questo pallone ha cercato Delcolle di ripetere la traiettoria dalla quale era nato poi il raddoppio l'astrigiana che ha segnato sugli sviluppi di un fallo laterale e su palla inattiva da calcio di punizione nitido il gol dell'1-0 più controverso contestato dai giocatori del Signa quello del raddoppio Bardazzi ha spazzato via Nencini porta avanti questo pallone sulla linea dell'out Tempesti se lo porta in avanti non riesce a verticalizzare e quindi rimessa con le mani Stefano Scardigli incita i suoi ragazzi colpo di testa di Dallai alza Delcolle colpisce ancora Franzoni Pierattini Sarti Tempestini verso Cellai rilancio Diegoli Sarti Crini Crini deve vedersela con Diegoli Becagli dall'indietro a Crisanto Crisanto che rilancia il colpo di testa di Borselli quello di Crini la palla domesticata da Piccione Crini dribbla anche l'arbitro Sarti ottimo impatto del giovane Sarti sulla partita Cellai Piera chiama e Piera non ce la fa chiama il mister Tempesti Tempesti dribbling in area di esterna in area di rigore allontana del collo il ripiegamento difensivo Becagli Becagli prova il tiro del collo e lo sporca in calcio d'angolo si arrabbiava Gambadori col suo giocatore Pierattini che però era vittima di crampi e quindi adesso forse ci vorrà sicuramente l'intervento del massaggiatore e poi forse un cambio cambio che sta preparando anche il Signa con l'ingresso di Bezzini vi avevo detto della rapidità di questo ragazzo con gli lascia il posto dall'Ai Riccardo Bezzini classe 2005 settore giovanile del margine coperta e poi gli uniori nazionali della Pistoiese per lui calcio d'angolo a favore del Signa altro cambio nella Lastrigiana entra il numero 18 Nania per Pierattini che non ce la fa più ultimi minuti sei minuti più recupero di questo secondo tempo altro groviglio in area di rigore spiove il pallone alto sul secondo pallo lo rimette al centro lo prolunga Chiavacci Alesso è in posizione di fuorigioco sul pallone dalla destra anche se c'era stato poi il tocco però era irregolare la posizione scambio di vedute tra il campo e l'assistente di linea che ha avvisato l'arbitro che non dovrebbe più tollerare le proteste dalla panchina del Signa gli è stato risposto di farsi gli affari suoi e gli affari suoi sono anche questi fare il suo lavoro per l'esattezza curioso sempre simpatico essere vicino alle panchine vicino al campo per riportare anche quello che il campo ci lascia e ci permette di ascoltare Becagli cerca l'anticipo Nania Pietro Tempesti Nencini Nencini la ribattuta ancora Nencini con le mani Becagli Tempesti Tempesti al centro sul secondo palo spiove il pallone c'è Marziano vigile la tiene a terra quarantunesimo quattro minuti più recupero situazione abbastanza compromessa per il Signa Becagli Crisanto Tempestini avanza palla al piede cambia di gioco su Alesso si contende un pallone alto glielo carpisce Piccione che si lancia in contropiede prova a servire al centro Sarti era isolato ecco Bezzini Bezzini sul fondo contrastato da Chiavacci serve prova a servire Cellai riprende il pallone Alesso Alesso in area di rigore cerca di liberarsi al tiro c'è un muro Palai in pallone in profondità per Sarti Sarti ha il compito di amministrare questo pallone di difenderlo ne trae Massimo Profitto con questa rimessa laterale rimessa con le mani procurata da Sarti a favore della Lastrigiana Nania ad eseguirla Palai calcio di punizione a favore del Signa attenzione perché Palai va a prendersi un cartellino giallo evitabile 43 minuti di gioco tra poco vedremo predisporre sul tabellone i minuti di recupero da esporre verso il campo Crisanto Diegoli Piccione e scusate Nania numero 18 che sul pressing di Pietro Tempesti guadagna un calcio di punizione 2 a 0 la Strigiana Pierattini e Borselli gli autori dei gol qualche episodio contestato dall'opera del Signa da rivedere anche degli highlight nei rallenti della nostra regia di TV Prato certo però che il Signa non ha costruito non ha saputo costruire ha sbattuto contro una copertura quanto mai accorta della Lastrigiana che ha tratto invece Massimo Profitto dalle occasioni che ha avuto adesso giallo giustamente per Piccione che ha trattenuto Pietro Tempesti spende un giallo in maniera proficua fermando la ripartenza ci ci sediamo in panchina questo è il suo lavoro quello dell'assistente anche se in questo momento Crisanto dicevo che far stare seduti non è semplice una torre in area Chiavacci mischia pallone ributtato avanti avanza la linea difensiva la Lastrigiana Crisanto la ricaccia in avanti per Bezzini troppo alta per lui Marziano che poi ad onore del vero non ha dovuto compiere parate se lo ricordiamo in qualche uscita e in una respinta un po' suggestiva su un tiro che gli ha simbalzato davanti ha colpito tra il corpo e le braccia protese e qualche uscita a terra non è riuscito il segno a creare occasioni è stata più sul piano nervoso e della grinta anche la reazione di questo secondo tempo poi è arrivato a complicare tutto il raddoppio un po' come era successo anche col Siena che il secondo gol aveva un po' tagliato le gambe alle velleità di rimonta certo partita completamente diversa Tempesti Marziano uscita ginocchio alto comunque sicura presa ferrea dell'estremo difensore della Lastrigiana probabilmente si sono già visti i minuti di recupero che ci sono sfuggiti mentre stavamo fissando altra zona del campo 5 minuti non sono sfuggiti invece al nostro Francesco Santillo che ce li segnala puntualmente quindi si giocherà fino al cinquantesimo Franzoni Pietro Tempesti Sarti non c'è fallo Diegoli Diegoli su Nencini c'è un fallo coperto dalla panchina dal nostro punto di osservazione aveva sentito un gran grido ad opera di Bezzini che si rialza a Zoppicante comunque va in area di rigore Crisanto viene alla battuta così che tutti gli uomini di movimento ad eccezione di Pietro Tempesti che è arretrato sono in area a saltare porta sguarnita Crisanto in area un tocco di Borselli Palai Crisanto elegante questo suo disimpegno rischioso Tempesti colpo di testa all'indietro esce Marziano la fa sua sarebbe tentato anche di ribattere subito di rimettere subito in gioco poi ci ripensa e opera una rimessa sfruttando al massimo i secondi regolamentari Becagli Piccione su Nania attenzione c'è Becagli che per il fallo su Nania viene ammonito e al danno si aggiunge la beffa perché è il secondo giallo per Becagli al 93 il 18 lì non l'ha ammonito come mai chiede Stefano Scardigli calcio di punizione a favore della Lastrigiana con Piccione e Delcolle direi che sicuramente si può discutere sugli episodi sui quali il segna può recriminare non ci esprimiamo lo lasciamo lasciamo alla visione di quanto si potrà meglio appurare anche grazie ai rallenti sono episodi non è una gestione collettiva complesso della partita mentre invece Stefano Scardigli dalla panchina faceva riferimento più anche a una valutazione nell'uso dei cartellini certo è che comunque il segna oggi non ha espresso il suo potenziale offensivo la Lastrigiana ha esercitato ha svolto una funzione di copertura una funzione difensiva esemplare e ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto una rimessa laterale un'altra palla inattiva correndo davvero pochissimi rischi attenzione a Pietro Tempesti va al tiro e c'è Marziano che anche se la palla gli sbuca davanti all'ultimo momento dopo il tentativo di opposizione di Del Colle ultimo guizzo di Pietro Tempesti raso terra sulla destra del portiere siamo al cinquantesimo quindi sono finiti cinque minuti di recupero piccione verso Sarti Sarti ci prova e Crisanto fa buona guardia coprendo il palo più vicino e l'arbitro fischia alla fine noi annotiamo sul nostro taccuino il tiro di Sarti respinto da Crisanto la gara si conclude con la vittoria della Lastrigiana per due reti a zero hanno deciso il gol di Pierattini al trentunesimo il raddoppio della Lastrigiana con il numero sei il numero sei Borselli sugli sviluppi del calcio di punizione calciato da Del Colle e in qualche modo era la mezz'ora esatta della ripresa con qualche contestazione ad opera del Signa che adesso si sofferma come un po' era successo anche col Siena purtroppo per la formazione del Signa c'è Scardigli che tiene dietro tutti i suoi giocatori si rivolge lui all'arbitro qualche perplessità noi naturalmente saremo sicuramente in grado di chiarire tutto con i nostri light con i nostri replay il verdetto del campo dice che la Lastrigiana festeggia il Signa si lecca le ferite vincono gli ospiti bianco-rossi per due reti a zero ripetiamo i marcatori Pierattini e Borselli un gol per tempo da Edoardo Novelli in voce da Francesco Santillo per le riprese video è tutto mi raccomando rimanete con noi Digitale Terrestre canale 75 canale YouTube selezione playlist calcio di lettanti che come sempre è solo da noi TV Prato alla prossima Grazie a tutti